Nuova farmacia sul territorio di Bellizzi. È quanto stabilito dall'Aggiunta Municipale che con apposita delibera ha recepito la legge in materia che prevede che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La zona individuata dall'esecutivo è quella nord del territorio bellizzese. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità al farmaco da parte di un considerevole numero di persone rendendo così più capillare il servizio di assistenza nell'ambito del comprensorio.